Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci qui con Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition Dobbiamo occupare la piattaforma numero 4, se vi ricordate bene eravamo arrivati in questa zona Siamo sempre con la campagna, occupiamo questa piattaforma numero 4 Di sicuro ci saranno nemici, e sottolineo di sicuro, vediamo e vediamo Io ho visto... Sì, dammi tregua caro Come detto ragazzi vi sto registrando gameplay di seguito, aiuto, qua contro un po' c'è moro Compro un po' c'è moro, aiuto, aiuto, ricarica qua signorina, perfetto, ok Salgo sopra, scusi signor... Ma vabbè, aie, forza, muorici, maledetto, punto debole degli ATST, aia, maledetta Iden Versi è stata sconfitta, maledizione Annaccio alla miseria, sono stato sconfitto Daie, damose, damose, non vi fate problemi, damose Sì, certo, come no Vediamo un po' ragazzi se riusciamo a fare una cosa stealth Ops, 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 ops Scusate ho sbagliato io, ho sbagliato io, ho buttato una granata E daie, morici, maledetto Vediamo un po', daie, alle gambe, alle gambe, al pipino, al pipino Maledetta mira del cacchius Che non funziona mai la mira, eh E daie, ma che cavolo, ma li sapete far fuori a sti cavolo di maledetti Signora, scusi, eh, che cos'è? Annaccio a voi, ma... Oddio, vai, vai, fallo fuori Neutralizzi il signore Dai, è così Questo qua non lo faremo né mo' né mo' né mai fuori Guarda questo qua No ragazzi, questo qua non lo facciamo né fuori né mo' né mai Ragazzi, questo qua lo dobbiamo far fuori Questo qua lo dobbiamo far fuori, se no altrimenti va a finire che Questo qua ci fa fuori a noi Vai, ricarica, cara Dai, che è quasi fatta Dai, che è quasi fatta Perché se no questo qua, ragazzi, non ce lo togliamo più da davanti alle perotas Olè Ottimo, perfetto È saltato in aria, men che non si dica No, non riescono a vincere né mo' né mai Guardali Maledetti E poi voglio dire, no, ma perché tutti quanti attaccati a me, scusate? Eh, sì, certo, come no? Con il mio aiuto, ovviamente Raggiungi il livello superiore Eh, sì, certo, come no? Ah, ok No, aspetta Cavolo, ho sbagliato Vai con la lettera G Olè Ah, vabbè, buon uomo Eh, ok Ok Eliminare ed evacuare Che ti devi evacuare? Oh, oh Bene Olè Vai tu, caro Vai, attacca pure tu Vai, attacca pure tu Olè 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 Aspettate Aspettate Perché qua Dai è così Vai tu ciccio Prepara L'attacco Anzi Piatto di pasta Prepara l'attacco Dai Al pipino Al pipino Al pipino Dai è così Alla testa Alla testa Dai è così Veramente 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 dei figacioni Siamo veramente Dei tanto figacioni Occupiamo Questo qui Entra Perfetto Benissimo Cavolo ragazzi Non lo so pilotare Ma ho un coso di questo Sì certo Come no? Ci vediamo là sopra Due però Non so come andarlo Io un coso di questo Se fa lei Tutto quanto Da solo Va benissimo Perché ragazzi Non so veramente Pilotare Oddio Hanno fatto Un casino Eh Sì C'è ragione Caro Ecco là Benissimo Siamo noi a pilotare Sì qui la gente Mico Spariamo Miriamo Turbo Credo Non lo so Raga Piano Perché io qua Non so capace A pilotare Una roba del genere E se no qua Va a finire Che ci schiantiamo Malo malo Dai è che stiamo A fare i trick Ecco qua Mo che ho detto Che stiamo A fare i trick Mai più A fare i trick Mai più A fare i trick Mai più E abilità Sì certo Caro Torna alla partita Va bene Ecco Bravo Dici E che poi Tra l'altro Perché quel signore La tiene Ma perché io Devo seguirti In queste Passati Voglio dire Perché c'è un'ala Che va in fiamme Col signore Uè 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 Aia Maronne santissime Cioè Non l'ho manco toccato Ma veramente Ma non l'ho manco toccato Ma mi fa ricominciare Ogni cavolo di vuoto Da capo Ma veramente Ah no Incominciamo dalla zona Dei detriti Buono E che c'è Io passo da sopra E chi se ne frega Ma come Frena 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 Cara Frena Maledizione Ragazzi Io non sto muovendo I tasti laterali Della tastiera Adesso li ho mossi Ma sto andando di più Con il mouse Vai con un po' di turbo Venno troppo con un po' di turbo Basta Frenalo E la madonna Che cos'è Danneggiati caro Dai è così Vai col nos Oh maledizione Oh maledizione Minchia signor tenente Dai è così Difendi Corvus A Corvus Ando stai No ragazzi E' incontrollabile Ok No Alzati Maledizione Semi dei treguaciccia Maledizione Che io qua Non sono manco capace Alzati E vabbè E come no E si Certo 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 Scusi Buon uomo Buon uomo Venga qui Ok Dici Dai Non fate M'arrabbiare Corvus Do cavolo Stai Corvus Della minchia Io qua Ragà Non sto a capire Più niente E schiataci Maledettissimo Maledetto Seme del tempo Caro Ole Ok Bombardieri Fatti fuori Damose Come lo sapevo Come lo sapevo Che dovevo andare A sbattere Lassopra Maledizione Oddio Va a ricominciare Tutto da capo Oh no Ma veramente Ma mi pigli Per i fondelli Ok Ma scusate Ma andò Cacchio Stai sparando No raga Veramente E' un botto Difficile Pilotarla Scusi Scusi No Non così Non così Troppo in fretta Non così Troppo in fretta Ma andò Boia State andando Peraltro No Attenzione Ancora altri Attenzione Olè Bravo Complimenti Scusi Signore Che cos'è Ma dove cavolo Mi stai andando In giro Per lo spazio Maledettissimo E ho capito Caro Dammi tregua Ok Fatto fuori Maledetto Ok Fatto fuori In altra Ancora Olè Corbus Però potresti Poi aiutarmi Te Ancora Attenzione Qua Perché qua Ci sono schiattato Male Prima Attenzione Panico Attenzione Scusi Buon uomo Quando c'è un minutino Per schiattarci Grazie Che ho fatto Io Ciccio Te non hai fatto Niente Proprio Ha capito Oddio Toccappero siete Qua Nello spazio Raga E' veramente Una figata Però E dai Ci passo pure Attraverso Oddio No Attenzione Oddio Mamma mia Mamma mia I giramenti di testa Fatto fuori in altro Dai è così Dai è così Ok Attenzione Panico Corbus Do stai? Oh porcaiva Non si capisce più Un cacchio Oddio Mamma Mamma mia Raga Mi stai girando la testa Attenzione Attenzione Abbassati Vai così No Attenzione Panico Oh è seme dei tregua Va a fan club Proprio Mi devi da tregua Caro Seme dei tregua Te posso pure difendere Ok Ok È arrivato il momento Di svignarcela Ma da dove Però Corbus Corbondo Stai Mamma mia Ragazzi Veramente Ok Ciao ciao Sparito pure lui Raga Che dire Una figata Oh ma È morto L'imperatore L'impero colpirà La ribellione Esattamente Alla radice Delle sue Patetiche Profonde Convenzioni Da dove Hanno origini Tali Convenzioni Ah Aiden Noiden Lo vedi La sua presenza È un grande Onore Che condividerò Con Ciao eh Oddio Ma questo qua Che stappa Scusi Raga Ma ha fatto venire I brividi L'operazione Cenere Deve iniziare Immediatamente Dici Resistenza Ribellione Tradimento Ha fatto tutto lui Dici caro E ti telefono A casa Ascolta Il messaggero Lui Ti indicherà Il tuo prossimo Versaglio Grazie caro Riferirò A casa Madonna ragazzi Angosciante Come signore Sempre col piatto Di pasta Dietro Però Dai galmo Ah pensavo che Pensavo che Ci dava la grana Fare altre robe Supongo Non lo guarda Ciccia Aiden Non lo guarda Che cos'è Fatti gli affari tua No Vai Più veloce Della luce No Bene Fondor Cantiere navale Dell'impero Oppure Ci sta pure Un cantiere navale Ah non lo sapevo Ottimo 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 Ciao caro Satelliti al sicuro Ottimo lavoro Dici Ok Perfetto Ottimo E mo si che so Ca Che stanna Fanna piega Raga Avete capito Ai posti di Oh maronne Oh maronne Ancora No dai Basta 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 Con sta roba Però Dai Attento Che stiamo Qua Quasi Per schiattare Perfetto Schiattato Malo male Il signore I cannoni Aioni Ribelli Hanno disabilitato Il Dauntless Comandante Numerosi Trasporti Ribelli Diretti Verso Il Dauntless Trasporti Vogliono Prendere La mia Nave Anniettateli Prima Che Mi Raggiungano Capito No Non ti sta Preoccupare Ciccio Tanto qua Ci sta Hayden Che De sta Proteggere Le chiappe Maronne Ragazzi Maronne Ragazzi Manu Ma non ti Sta Preoccupare Caro Che Tanto qua Ci sta Hayden Che De sta Che mi stanno A fare Dai Caro E quando Cavolo Stai Ok Per schiattarci Malo Malo Aspettate Ragazzi C'è sta Pure Air Turbo C'è sta Pure Air Turbo Dammi Tregua Ok Fatta fuori In altra Olè No Scusate Dici Ok Dammi Tregua E che Cos'è Mannaggia L'anima Tua Mannaggia Vi è tua A fare Il fighettone Su sto Cavolo Di Di Chassi Qua Poi Si chiama Lui Ops Ho beccato Grazie 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 Caro Olè Hai rotto Lasciatelo Dire Che hai rotto Che Dumaruni Basta Questo qua Che mi ha Sfrecciato Accanto Qua Do vai Bravo Bravo Caro Un applauso Che vuoi 100 euro 100 euro Che ho eliminato Il bersaglio Guarda qua Hai rotto Le Hai capito Che Dumaruni Che sei diventato Però Sei diventato Una rottura De maruni Ops Scusi Così imparano Dici Caro Ma A me Non mi Sembra Raga Questo qua Mi deve Fa Nervoso Grazie Caro Do vai Te Caro Che c'è Vuoi sfuggire La legge Raga Non ce la faccio Chiù Raga Non ce la faccio Chiù Con questo Ma veramente Grazie Caro E poi Quelli là Che rompono Di più Le perotas Sono questi Qua Ecco E dai E fatti Ti becca Guarda che Mo se scendo Giù Te piglia Capocciate E te faccio Sali a te Qua sopra Hai capito Caro Fan club Maledetto Che cos'è E A voglia E Co stanno Sti Cagnoni Aioni Qua Dici Si perché Qua tu Non camperai A lungo Caro Ancora Altri caccia Nemici In avvicinamento Ma che Due marunio Ancora E basta Sei Uno in meno Ciccio Sta a fare tutto Io Che te Non sta a fare Niente Pure difendere L'agente Ash Ask Come boia Si chiama lui Che cos'è Ma pensa un po' Te Do state Bravo Dieci euro Che ti sei comportato Dieci euro Che ti sei comportato bene a casa Anzi a scuola Prego prego Non c'è di che Basta che paghi Ha capito Damose Sali a bordo Eh si ma questi qua Però che che li fa fuori Vai col super turbo Aspettate Aspettate Perché non sto capendo niente Do boia Levate dei maruni Tu qua davanti Che cos'è Oh Aspettate Una botta di lag Ah Frida 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 Che cavolo C'è la miseria Mannaggia Vai Oddio Ah ma qua Dobbiamo far fuori Dobbiamo far fuori Quelli là Là dentro Non avevo capito Pensavo che erano Nostri amici Posto bruciatore Barramento laser Silluro Protonico E questo qua Ragazzi Devo provare assolutamente Eh si si Certo Certo caro Moriteci malissimo Dov'hai te Dov'hai te caro Mannaggia La miseria Mannaggia Devo salire dentro Per ora Li devo far fuori Tutti Ho capito Addio Aspetta Che mo qua Arrivo io Aspettate Buonomeni cari Eh si Mi signori Annaggia La miseria Un'altra volta Mi hanno fatto fuori Ma come cavolo è possibile Paiden è stata sconfitta Malissimo Devo dire Malissimo Oddio C'è perché Comunque sia ragazzi Non posso andare Né avanti Né indietro Ma da dove Però mi beccano Scusate Non ho capito Non ho ben capito Non ho ben afferrato Sono ben afferrato Come cavolo sia possibile Una roba del genere Ah No ragazzi Non riesco a fare Né destra Né sinistra Cioè ma è roba di poco Che riesco a fare Destra e sinistra Cioè boh Non ho capito Se sono io Che sto sbagliando A fare qualche cosa Oppure non lo so Cioè Ah ok Adesso è andato un po' Più in avanti Aiuto Ah ok Sì perfetto Ottimo Ce l'ho fatta Finalmente Porca Eva Ai posti di battaglia Ai posti di battaglia Cari Ai posti di battaglia Cari Avete sentito il comandante A te zitto A te fermo Vai coso Droide Do vai Eh siamo tanti caro No Maledizione Avevo mandato il drone Avevo mandato il drone E mi hanno fatto fuori Ressoso Detonatore termico Ok Torna alla partita Maledizione Oh ma hanno fatto fuori così Come se non ci fosse un domani Ah benissimo Cavolo fa male però eh Aia Ok Fatto fuori Sì era la La torretta nemica Quella là E muorici Maledetto No Uno di vita Uno di vita Maledizione Dai 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 Rigenerati Rigenerati Sono tanti ragazzi Sono tanti Dai eh Aspettate Che cavolo sta succedendo Peraltro Ah aspettate che qua ci stanno altri nemici Ciao caro Ah aspettate perché qua posso Cambiare arma Ok Accedi al terminale Dovrebbe essere quale Ok E questo qua Torretta blaster Ok Sì qua ma devo difendere il drone No niente ragazzi È troppo difficile Sì devo difendere il drone Purtroppo Aspettate un po' una roba No pure da dietro Eh no vabbè ragazzi No sono tanti No ragazzi sono tanti Ci riprovo un'altra volta Ma non mi garantisco niente però eh Facciamo così ragazzi Piazziamo Una torretta qua davanti Maledizione Mordali Da dietro Oh e daje Daje datemi una mano Datemi una mano Sì quello è un droide cercatore Perché che vuoi È mio e non si tocca Hai capito Stronzo Maledetto Ok il droide credo che ha fatto Daje forza Ok Daje Daje così Eh lo so scusi Scusi comandando Scusi comandando No Maledetti E ho capito che la cella è pronta Però cavolo Porca Eva Datemi tregua no Maledetti Eh datemi tregua Io qua ci sto a morire tra un po' A fan club Se che cos'è Tra un po' Ah dici Allora dobbiamo accedere dall'altro lato Ancora Vai caro Acidi Eh ma va Aiutatemi però Non state così senza fa niente E che cos'è Una torretta amica Benissimo Oh e daje Maledetti Dov'hai State a cuccia Che è successo Ottimo 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 Perfetto Oddio Piazza un esplosivo dove Eh ma se non mi dai il segnale però Cioè te lo devo andare a piazzare sto coso Ah ok Sì Ah benissimo E daje Allora Interagisci Vai Piazza esplosivo cara Faffede Damose Daje Oddio Ah no Era tutto quanto automatico Farone santissime Che cos'è Tutta sta cattiveria C'è sta donna Comande No Non direi proprio Oddio Santissimo Dai Forza droide Muoviti Mi sa che non funziona Mi sa che non funziona Addio Oddio Santissimo Si è salvata A puro caso Per puro caso Ragazzi Si è salvata la signora Aiden Aiden Vale Un'altra volta a bordo Tu sta roba Qua Dici Dici Comande Aspetta Buon uomo Che cosa Che cos'è che devo fare Non ho capito Non ho capito Non ho capito Che cavolo Che devo fare Attenzione Panico Ah ok Devo distruggere Credo Sti cosi I ribelli Non devono sapere Dei nostri piani Per l'operazione Cenele Dici Ora più che mai Solo il potere Può garantire La pace L'ammiraglio Versio Ripulirà la galassia Comandante Ah benissimo Ancora Dai è così Dai è così Che ci vai giù E che Ci sono schiantato io Distruggiamo i cacciaribelli Do state cacciaribelli Venite qua da papino Dici Sottomettere la galassia Zitti 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 Esatto Caro Aspettate 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 Che qua Attenzione Panico Mi sa tanto Che lo devo fare Un po' più da lontano Perché non riesco A governarla Aiuto No Ok Fatta fuori una No Attenzione Aspettate Un momento E ma che Dumarone Fate fuoco Pure voi Però Attenzione Troppo sensibile Raga Troppo sensibile Non si riesce A governare Non si riesce Per niente Al mondo A governarla È troppo Troppo Tosta All'astronave C'è qua La cosa Ok Una fatta fuori Rock up Mi potete pure difendere Ogni tanto Maledetti Damose Oddio Completato traguardi Completa la missione Dauntless Già fatto O che fanno Ma se la danno a gambe Questi Mezzica Signor Tenente Grazie caro Pure Tu moglie Eh Tu moglie Ne sarà fiera Di suo marito Il Corvus Partire generale Della squadra Inferno O mamma santa Pericolosi Manufatti Che non devono Finire In mano Niente Il sito È protetto Da un Sofisticato Sistema Difensivo Agente Niko Tu hai le competenze Tecniche Per disattirarlo Preparati a una Spedizione Trova e distruggi L'osservatorio Ah benissimo Figlio Giannetta Disabitato Ok Vediamo un po' Ragazzi Che cos'è Che succede Ma siamo sicuri Che è inabitato Che non ci sta Nessuno R2 D2 Ok Yook Non è proprio uguale Però Wow Wow Che figata F1 Per avere informazioni Sulle abilità Allora vediamo un po' Pinta Onda E scatto Ok Da ragazzi Allora io direi quasi quasi Di completare qui Questo nuovo appuntamento Della serie di Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition Mi raccomando Come sempre Vi invito a lasciare like Commentare Ad iscrivervi Attivare la campanellina Condividere questo video Per aiutare i seri canali A crescere E noi ci rivedremo Nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti